Non è questione di non abituarsi, è questione che non può vincere sempre una squadra sola. La Juventus ha fatto nove anni straordinari, poi c'è stato un cambiamento generazionale e credo che quest'anno l'età media della squadra sia notevolmente abbassata, un percorso che è iniziato, comunque sostenibile con quelle che sono le richieste della società. Però l'importante è cercare di entrare in Champions tutti gli anni. E non è facile perché in Italia ci sono sempre sette o otto squadre che lottano per la Champions, basta vedere quest'anno, quindi bisogna fare un passettino alla volta e cercare di entrare in quella che è la competizione maggiore dell'anno prossimo. Preoccupato non sono, siamo dispiaciuti perché abbiamo lasciato un bel po' di punti in questo mese, però diciamo che siamo a marzo, siamo nella parte finale della stagione, il primo obiettivo stagionale era quello di arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Stiamo al secondo posto in classifica, stiamo lottando per quello che riguarda uno dei primi quattro posti e siamo in semifinale Coppa Italia, quindi momentaneamente gli obiettivi che c'eravamo prefissi all'inizio della stagione li abbiamo raggiunti, ora bisogna essere bravi ad arrivare in fondo, mancano 11 partite di campionato più 2 di Coppa Italia sperando che siano 3 e cercare di fare il meglio possibile.